So che vi piace il marchio X, le vetture bike importate in Italia da DR Automobili e da Gino SPA hanno fatto molto successo soprattutto in questa prima fase di commercializzazione, lo vedo dalle visite sul sito automoto.it, lo vedo da tutti i video presenti su YouTube relativamente alla K2 ad esempio che ho qui alle mie spalle, ma lo sento anche dal polso dei concessionari che commercializzano appunto questo marchio e mi dicono essere molto soddisfatti delle visite che hanno all'interno delle loro mura ma soprattutto anche dei contratti che riescono a stipulare con i clienti. Le macchine di fatto hanno un buon rapporto qualità prezzo, sono carine da un punto di vista estetico anche se sono mezze scopiazzate da Range Rover e da Jeep e direi anche hanno delle meccaniche che non sono più improponibili come le cinesi di qualche anno fa ma sono arrivate ad essere molto vicine a quelle delle europee anche se poi pagano qualcosina in termini di efficienza e soprattutto di messa a punto. Sta di fatto che con una spesa decente ti porti a casa comunque una macchina sufficientemente generosa in termini di spazio appunto carina esteticamente e che ti porta da punto A a punto B senza tanti problemi. Non è tanto una problematica legata al prodotto in sé quindi non ci saranno diciamo influenze relative alla commercializzazione ad esempio della K2 che vedo che sta piacendo moltissimo ma quello che è stato stabilito dal Tribunale Ordinario di Torino riguarda l'utilizzo del brand X da parte di DR Automobili e di Gino SPA perché è vero che da un lato ICKX è la scritta per esteso della lettera X ma dall'altro innanzitutto ricorda inequivocabilmente così è premocchiata il nome di Jackie X e soprattutto lo ricorda in un'ambientazione legata al mondo del fuoristrada. Sì perché Jackie X non solo ha corso in Formula 1 e ha vinto in Formula 1 non solo ha corso nel WEC ed ha vinto nel WEC non solo è testimonial di Porsche e continua ad esserlo da tanti anni ma ha anche vinto la Dakar a bordo di vetture Porsche e questa associazione tra il brand il nome X e il mondo del fuoristrada appunto dettata dalla vittoria alla Dakar è l'elemento attorno al quale chiaramente il pilota l'ex pilota di Formula 1 ha giocato la sua difesa andando quindi a sfilare l'utilizzo o la possibilità di utilizzo del brand X a DR Automobili e Gino SPA per la commercializzazione delle vetture e bike sul territorio italiano e quindi credo comunque territorio di tutto il mondo fondamentalmente credo che questa sentenza valga un po' ovunque. Ordina il ritiro dal commercio e tribunale entro 60 giorni delle automobili contraddistinte con il marchio X ad eccezione di quelle già vendute che appartengono a chi ne fa uso personale e chi ne fa uso aziendale? Boh comunque non importa. Dispone nei confronti di DR Automobili il trasferimento provvisorio Jacques Bernard X entro 30 giorni del nome del dominio X.it Ordina la pubblicazione entro 20 giorni del dispositivo della presente ordinanza sulla rivista 4 ruote a caratteri normali a spese di DR Automobili nonché entro 20 giorni e per 90 giorni la pubblicazione di questa sentenza sulle pagine iniziali del sito internet della DR Automobili e della Gino SPA Inoltre è fissa a carico di DR Automobili SRL e di Gino SPA la somma di 50 carte 50.000 euro per ogni singola automobile messa in commercio in violazione dell'inibitoria nonché la somma di 10.000 euro per ogni singolo giorno di ritardo nell'esecuzione della presente ordinanza condanna poi la DR Automobili e la Gino SPA in solido a rimborsare tra loro a rimborsare a Jacques Bernard X le spese di lite che liquida in 8.000 euro per compenso oltre al contributo bla 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 eccetera eccetera quindi di fatto quello che succede per le vetture che sono già presenti in concessionaria posso immaginare sarà un cambio di brand quindi non vedrete più scritto X qui davanti ma si inventeranno qualcos'altro e invece posso immaginare che per quanto riguarda i modelli che sono in arrivo e che arriveranno la nomenclatura possa rimanere fondamentalmente quella che abbiamo già visto adesso come ad esempio nel caso della K2 non ci sono problemi per tutti coloro i quali hanno diciamo la vettura già in garage potranno continuare a tenere il brand X sulla macchina ma sta di fatto che tutte quelle che sono già presenti in concessionaria tutte quelle che sono in nave che magari stanno arrivando e tutte quelle che appunto magari sono in consegna in questi giorni dovranno essere modificate per cui non so come ma dovranno essere modificate e questo chiaramente richiede uno sforzo economico da parte di Gino e ovviamente anche di Aero Automobili che dovranno rivedere tutte le campagne di marketing dovranno rivedere tutto quello che è comunicazione su questo prodotto dovranno rivedere banalmente anche i libretti posso immaginare di uso e manutenzione quindi sparisce tutto quello che è marchio X quindi anche un costo notevolissimo per rimettere in piedi tutta la struttura commerciale con un nome diverso che sembra banale ma in realtà rimettere in sesto un'iniziativa commerciale dopo averla basata sul nome come questo che tra l'altro la gente si ricorda benissimo sarà comunque molto costoso e soprattutto anche da un punto di vista di tempo ci sarà del tempo da investire per riportare diciamo in auge un altro nome che possa essere accumulato appunto ai modelli fuoristrada che vengono dalla Cina e vengono importati in Italia da questi due marchi sono sempre quelle piccole grandi disavventure che fanno parte un po' del mondo delle importazioni fanno parte anche di quel dubbio che sia sempre nel pensare che queste macchine siano in qualche modo made in Italy banalmente perché transitano e perché vengono modificate magari in qualche parte all'interno di Cappannoni qui nel locale ma realmente poi la vera verità è che in questo singolo caso Jackie X ha rivoluto semplicemente il suo nome perché di fatto chiunque è appassionato di motorsport e conosce Jackie X associa il marchio a queste vetture anche io di mio ho detto ma quando l'ho vista per la prima volta ho detto ma Jackie X si è smesso a importare macchine in realtà non era Jackie X ma era appunto la di Air Automobili con GNSBA che importava queste vetture e le battezzava in questo modo per carità anche intelligente perché banalmente la scritta prestigio di X che posso immaginare non possa essere utilizzato in alcun modo per creare dei brand che possono essere poi associati al mondo del fuoristrada sarà già preso da qualcuno e posso immaginare non potesse essere utilizzato ma appunto X suona esattamente come la lettera X e quindi l'associazione al mondo del fuoristrada ed è anche carino da un punto di vista scenico proprio ad esempio anche qui la presenza su questo cofano della scritta X devo dire non sta per niente male ma da ora in avanti non potrà più essere utilizzato proprio perché il mitico Jackie ha richiesto al tribunale di Torino di non concedere più l'utilizzo ad Air Automobili e a GNSBA appunto del suo brand e da ora in avanti dovranno mettere mano a tutti i modelli che sono esistenti in concessionaria pena appunto una pena pecunaria di 50.000 euro per ogni automobile messa in commercio in violazione delle inibitorie posso immaginare che da ora in avanti non ce ne sarà più manco una che porterà questo nome e soprattutto dovranno farlo anche velocemente altrimenti dovranno pagare appunto delle somme relative al ritardo questo tipo di operazione comunque questo è fondamentalmente quello che è accaduto è sempre molto complicato diciamo gestire questo tipo di importazioni non ci vedo nessuna limitazione diciamo relativamente così alla presenza di vetture cinesi o in qualche modo osteggiate da corporazioni qui a livello europeo che non vogliono le macchine cinesi in Europa sta di fatto che banalmente me ne ho utilizzato un nome che non poteva essere utilizzato il buon Jackie in cuor suo ha detto scusatemi ma o mi pagate banalmente posso immaginare anche così o mi pagate e anche tanto oppure prendete il nome e ve lo levate perché io su quelle macchine lì il mio cognome non ce lo voglio mettere detto questo sicuramente è una qualcosa di strano non succede spesso ma succede mi viene in mente ad esempio in ambito automobilistico l'utilizzo da parte di questa è carina l'utilizzo da parte di Fiat per nuova panda ancora parliamo del 2010 11 12 non ricordo quando è stata fatta l'ultima generazione di panda non doveva più chiamarsi così ma doveva chiamarsi jingo in realtà quelli di Renault dissero che jingo era troppo simile a twingo per cui tutti i libretti uso e manutenzione tutte le campagne pubblicitarie che erano già state fatte tutto venne rimosso a pochi mesi anzi a poche settimane dal lancio della panda che continuò fortunatamente direi io a chiamarsi panda ma quella cosa lì costò abbastanza fiat proprio perché tantissimi processi erano già stati avviati con il nome jingo e chiaramente rifare tutto anche da un punto di vista strategico e commerciale non credo sia stato facilissimo poi ci sono anche mille altri casi non vincenti relativamente all'utilizzo dei nomi mi viene semplimente aprila tuareg che è scritto tuareg se non ricordo male con la u volkswagen chiese la possibilità di utilizzo a beggio del nome tuareg per la realizzazione appunto della tuareg beggio aprilia ci faceva 125 600 anche la 3,5 secondo tuareg ma beggio disse ok io ve lo do ma vi faccio pagare una cifra spropositata tanto se qui della volkswagen no penso che abbia detto una cosa del genere invece alla fine quelli del volkswagen sono stati un po' più furbi di lui e hanno scovato che esiste la possibilità di utilizzare il nome tuareg in un dialetto sempre africano che non si scrive tuareg con la u ma scrive touareg e infatti la tuareg scrive touareg proprio perché viene utilizzato un dialetto africano e non diciamo la lingua originale quindi hanno aggirato l'ostacolo per arrivare poi esattamente allo stesso punto detto questo ce ne sono mille se ne potrebbero trovare un milione di assonanze giudicate in tribunale o non giudicate in tribunale sta di fatto che comunque le vetture x non si potranno più chiamare x e questo è un provvedimento che verrà diciamo preso anzi che deve essere preso sin dal primo istante con questo è tutto non mi rimane che invitarvi a commentare qui sotto vive una persona per l'auto e full gas così sempre sempre ciao